Siamo qui a presentare un test, una sperimentazione fatta dall'Università di Bologna e dal Parco archeologico Valle dei Templi di Grigento sul tema della comunicazione dei beni culturali. Abbiamo scelto di ricollocare delle riproduzioni di emblemata, cioè dei riquadri figurati di mosaici che erano stati staccati agli inizi del Novecento, alla metà del Novecento e attualmente erano conservati al Museo archeologico. Abbiamo dunque fatto una riproduzione e l'abbiamo ricollocata nel luogo originale in maniera da ricreare il contesto archeologico perché chi va al museo non sa che questi oggetti venivano dal quartiere Lenistico Romano, viceversa chi vede il quartiere Lenistico Romano non sa che qui andavano questi oggetti. Dunque la comunicazione dei beni culturali, la comunicazione dell'archeologia è un tema fondamentale per noi. Qui siamo entrati in un'altra casa che è uno dei motivi forti della nostra ricerca perché guardate in questa casa c'è un salto di quota pazzesco i pavimenti sono a meno due metri rispetto all'altra casa e dunque questo ha permesso la conservazione di tutto. Allora vi voglio far vedere questo vuoto, questo vuoto che adesso voi vedete lo dovrete riempire con le pitture che vedrete fra un attimo perché tutte le pitture che verranno esposte le abbiamo trovate in questo crollo, in questo punto e le abbiamo asportate. La cosa interessante che manca ancora, non so se riuscite a vedere, in età Lenistica camminavano in quel punto lì dunque sotto i nostri piedi c'è ancora un metro di deposito, un metro di pitture e quindi noi stiamo con i piedi praticamente sulla Field School 2019 come vedete insomma qui sotto ci sono sepolte ancora, spero, tonnellate di pitture. Grazie a tutti.